Abbiamo l'onore di accogliere per il nostro primo anno Teleton, benvenuti, sono felicissima, mi auguro che questa collaborazione continui nel tempo. Buon Carnevale! Avere qua Teleton oggi è veramente un'occasione per ricordare ai tanti soggetti quanto sia importante fare parte di quel mondo che aiuta la ricerca. Noi oggi come oggi mettiamo un seme e aspettiamo poi che cresca, che ci sia una florescenza, che se questa si allargasse poi a tutta l'Italia avremo un tappeto unico che rappresenta i volontari di Teleton. Un giorno un sindaco di città mi disse, chi te lo fa fare? Me lo fa fare la vita che ho condotto fino ad oggi. Devo restituire in parte quello che ho avuto dalla vita. Siamo qui per sensibilizzare, per dire la nostra su quanto la ricerca può essere utile, su quanto sostenere la ricerca è fondamentale, per trovare una cura alle circa 7.000 patologie rare al momento conosciute. Sono davvero contento ricevere la staffetta. Noi rappresentiamo il terzo evento della Fondazione Teleton per i trent'anni. Vi aspettiamo tutti, numerosi, a Piazza del Bicito il 22 marzo per la Walk of Life. Corriamo insieme per la ricerca.